Anche il Movimento 5 Stelle a sostegno delle diverse associazioni ambientaliste che hanno inviato una lettera al presidente della regione siciliana Rosario Crocetta in merito alla possibile realizzazione sull'isola di due enormi inceneritori dal progetto di conversione delle centrali elettriche in CSS con particolare riferimento a quella di San Filippo del Mela. E' la netta posizione assunta attraverso la portavoce all'Ars Valentina Zafarana e i rappresentanti alla Camera dei Deputati, ovvero Francesco Duva e Alessio Villarosa. Così il Movimento 5 Stelle ribadisce il proprio fermo no, affermando che i rifiuti sono un combustibile pericoloso per la salute se vengono bruciati così come sono sotto forma di combustibile solido secondario. Per Francesco Duva, il presidente Crocetta, che si dice contrario alla realizzazione degli inceneritori, dovrebbe anche prendere posizione sulla conversione delle centrali elettriche. Secondo Valentina Zafarana, invece, la battaglia contro la realizzazione di impianti CSS era già approdata all'Ars attraverso una mozione concertata con la cittadinanza locale e le associazioni della Valle del Mela. Una battaglia che continuerà affinché l'ipotesi CSS non sarà messa definitivamente da parte. In chiusura il Movimento 5 Stelle ribadisce pieno appoggio ai movimenti no RAM e no CSS sotto l'unico vessillo delle migliori condizioni sanitarie e ambientali, sviluppo economico e salute dei cittadini.